Ben ritrovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal. Saranno le correnti settentrionali, le protagoniste di questo fine settimana. Andranno a ripulire i cieli dalle nubi basse che hanno interessato la Liguria nelle ultime ore. Intanto per la giornata di oggi, venerdì 27 ottobre, progressiva diminuzione della nuvolosità associata alla rotazione del flusso appunto dai quadranti settentrionali. Da metà pomeriggio cielo sereno, poco nuvoloso su tutta la regione. Venti inizialmente deboli in regime di brezza, in rotazione da nord, da metà pomeriggio con locali raffiche dal tardo pomeriggio fino a 60-70 km orari. Mare mosso in aumento fino a molto mosso, a largo, temperature massime in diminuzione lungo la costa tra 19 e 22 gradi, nelle zone interne intorno ai 19-20 gradi. Domani sabato 28 ottobre al mattino ancora 20 settentrionali e cielo sereno, poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio cielo generalmente poco nuvoloso, temporanei passaggi di sottili nubi alte, possibili locali addensamente in serata, in particolare a Levante. Venti nelle prime ore forti da nord, in rapida attenuazione fino a deboli. Nel pomeriggio in rotazione da sud o sud-ovest, tenenti a disporsi in regime di brezza. Mare inizialmente mosso, in progressivo calo fino a poco mosso. Temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 11 e 14 gradi, nelle zone interne tra 3 e 5 gradi, massime in diminuzione lungo la costa tra 18 e 20 gradi, nelle zone interne intorno ai 17-18 gradi. Chiudiamo con domenica 29 ottobre. Un flusso in prevalenza dei quadranti settentrionali garantisce ancora cielo sereno, poco nuvoloso, possibili locali addensamente pomeridiani sui rilievi. Venti inizialmente deboli meridionali in regime di brezza. Da metà giornata in temporaneo rinforzo da sud-ovest fino a moderati. Nuovo calo in serata. Mare da poco mosso a mosso. Temperature minime stazionare lungo la costa tra 12 e 16 gradi, nelle zone interne tra 3 e 7 gradi, massime in aumento lungo la costa tra 18 e 20 gradi, nelle zone interne tra 17 e 20 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it e sulla pagina Facebook di Arpal. Buon fine settimana a tutti!